Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi racconto un po', praticamente, ho io andato a mamma a fare le valigie, infatti come vedete non c'è, infatti sono anche un po' triste. Dovete sapere che ci passo 24 ore insieme a lei, c'ho anche le auricolari, scusate stavo ascoltando musica. Praticamente, poco fa, aspettate che mi muovo meno, praticamente l'ho aiutata a caricare la macchina che era veramente stra piena, praticamente non abbiamo fatto che caricare, scaricare, di più anche abbiamo portato un motorino che era nel giardino di là. E niente di che, oggi ho lavorato, se si può dire così, ho avuto pochissimi momenti in cui potevo rilassarmi, e sì, poi tra l'altro ne sono anche mezzo spettinata perché sto per andare a dormire, perché sono stanchissima. Si capisce un po' dai miei video che sono veramente stanca, non vedrò di riposarmi. Vabbè, per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale, se anche voi una volta nella vita siete stati in Sardegna, anche se so che mi ignorerete completamente. Per oggi è tutto, da Asia Bianchi, out! Alla prossima! Grazie a tutti.